Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 tra Calenzano e Pio 1 variante verso nord, in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e Il Vivio con la 1 tutto verso Firenze, in Fipili tra La Strassigna e Firenze Scandicci ancora una volta verso il capoluogo. Per il traffico ferroviario a causa di una riprogrammazione dell'offerta commerciale, il regionale 18-208 Siena-Firenze quest'oggi è cancellato. I viaggiatori possono utilizzare il treno 18-212 Siena-Firenze con le medesime fermate. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli per i nuovi allacci alla rete idrica in via San Leonardo, via Dell'Orto e via Cavour e quelli alla Fognatura in via Pisana. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!